Ehi, benvenuti un'altra volta su Caped con Mazinga Z92 Chissà di chi è questa puntata, non lo sappiamo Ah sì, è vero, di chissà Amen, chi lo sa Benvenuti da me e benvenuti da Mac Ormai lo spirito è quello di gente che ha perso la voglia di esistere Però... Cosa? No, però niente, però... Però... Perché siamo qua? Ah, perché abbiamo fatto provare a Night il coso Chiedo scusa per i dieci chilometri che dovremmo fare Quanto vi entro? Ah, è vero, devi entrare Dolendo Cioè, a me va bene di non entrare, no? Vai Let's join Sì, abbiamo fatto provare ai nostri mod il gioco Giusto perché... Perché? Perché? Per condividere il... La gioia? Il dolore Più che la gioia Facciamo l'expert mode, poi, è vero? Sì, sì Aspettami Vuoi non fare... Tra l'altro sai cos'è l'expert mode? Sì, è tipo molto più difficile con tipo un colpo di vita È velocezza del 25% Molto bene Da quanto ho capito, è tipo velocezza del 25% La maggior... Setup Ah, no, va bene Andava benissimo così Era... Che so io? Il tiger shot Era giusto così Il chaser shot Sì, non so cosa volevo fare Tre Comunque è tre Cos'era tre? Ah, proprio Non mi ricordo Scusate Perché devo aprire... E tre è il fumo È il fumo? Che piace a te È il che cazzo, maledizione, porca Ok Ho aperto le note Cos'è almeno le abbiamo bene, pronte Buono l'inizio? Buono l'inizio Buonissimo l'inizio Bene l'inizio Ha detto smoking Smokey Every day 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 Oddio Ah, l'ha preso L'ha fatto L'ha fatto Ma i saltelli tra le sigarette sono come il buono Sì, dipende Bisogna aspettare Avevamo detto che nel... Guarda che muori sto stronzo Così Si usa il chaser? Ci vuole un po' Sì, però che cazzo Amminti ha il chaser, cazzo È un tizio che sta fermo Amminti ha usi il chaser Ah, corto Lo devi spiegare il chaser Eh, no, no L'ho il triple shot di Contral Sì, ho capito, però C'è una serie Ah, via Eh, vabbè Che cazzo, però Allora C'è la scelta sulla patch? Che in teoria dovrebbe contarti Vivo Ah, sì Pensa a te Ah, cinque cazzo menne Non so cos'era Non mi ricordo più Vuol dire bene? Eh, non mi ricordo Cazzo menne Suppongo che sia Oh, ho sbagliato Comunque Domino Ah, domino era facile Cazzo menne Forse è coniglio Era, era il cavallo Non è il cavallo Sai che è il coniglio Se non c'era in altre parti Ho visto che non c'è il coniglio Ecco, via È il coniglio Il coniglio cos'era? Non me lo ricordo più Il prestigiatore Ah, sì Non mi ricordo Che cos'era? Come era? Il coniglio è quello che Ti crea le carte intorno Devi uscire da un'uscita sola Oh, che poi Non era poi così divertente in realtà Difficilissimo Se avrebbe messo vibrazione Oh, Mario Oddio Cazzo Ok Oddio Oddio Mo La schivata della vita Non so come ho fatto Ok Che bella la vita Evviva la vita Mi sa che dobbiamo andare su Cazzo menne Per avere un attimino di speranze nel mondo Ma sì Coniglio Con il fratello con il letto E più che altro Il problema era Quando c'erano i semini intorno Sì, quando arrivano da sopra Perché per riare da sopra O a tre quarti Ancora peggio Quando si mettevano a tre quarti A vero, a proposito Anch'io Chissà se è questa Ah, ce l'ho anch'io Dovrebbe durare Dicevano, dovrebbe durare ancora molto Visto che li abbiamo Sì, però dai Sono in goia Quando fai tre quarti Deve essere Mamma mia Intanto non so come ho fatto a schivare quello prima Ah, l'ho notato Oh, doppio perry Vorrei dire Quanto cazzo sono figo Ah, grazie Oh mio dio Ah no, il triplo della vita che aveva Ah, il triplo della vita che aveva un tempo Perché non mi ricordo Mitterci sei ore per battere Ripeto, tu stai usando solo il chaser Che fa un danno che non esiste Sì, vabbè, ma anche prima Eh no, prima usavi almeno qualcos'altro No, no, usavo quello Perché usi il chaser? Non mi togli un cazzo Sono nemici dritti Non serve un cazzo il chaser Ho sempre usato quello Non sono tutti nemici dritti però Tre quarti Cosa fai? Vai a fare pallapallina? Sì, pallapallina Vabbè Pizzo di merda Sto merda Merda Perché era un po' che non lo dicevo Merda Dai, due punti vita Poteva andare peggio Tanto non lo faccio altrimenti tanto tempo Che non mi ricordo neanche più come Finché è così Un tiro Buongiorno Questo è da stronzi Eh, ma l'ha fatto anche prima Tu eri un po' meno al lato Faccio la doccia Vai Doccina vera? Non è niente di sessuale No Ok Black shower Ti fai gettare una colata di petrolio addosso Magari qualcuno A qualcuno ci piace Pronti Durerò molto Sappiro Hai un punto vita Quindi devi azzeccare il lato Innanzitutto Ok No, stavo aspettando di avere la super Ah, è vero Perché tu c'hai Eris E' bella Yes Mi funziona tanto A me funziona Aspetta che cambio il po' Dicevo mi funziona un sacco bene il Perry Che è proprio a tempo Quando voglio io Ok Io non ho Ce l'ho il Chasar Partenza è ottima L'ho preso il Chasar Il Chasar è quello che stai usando? No, vuol dire il Chasar Sì Ce l'ho Ehm Va bene dai Prova a mettere la smoke bomb Io provo a usare il coso Ma non è che Sono mica capace Ehm La coffee Che cazzo è più? Allora Aveva un autofill Prova a mettere Ma hanno detto tutti Control Dice Ice King E' utilissimo Giant Ghost Perché comunque Lui ha un hitbox della Madonna Ed è in alto Quindi tu lo spawni E lo colpisci sempre Ma no, lo so Infatti l'avevano detto Però bisogna saperlo usare Quello che è il nostro problemone Esatto Non è la dimensione Ma come lo uso E' sempre così Poi alla fine E' sempre quello il problema Allora Lo so che posso Con lb switch Arma Saremo un attimo Dal boss finale Grazie Sì, però per me l'ho detto adesso Non è che Chips Chips Ah, le chips È vero Le chips Domani è l'erta arancione Ideologica Sì Però scuole aperte Cioè vuol dire Che devo andare Ah, ma è tanto gioco Ti sento Purtroppo Ah, a proposito Tra l'altro Oh no Occhio Sono distretto Supponendo che questa puntata Vada domani In live Anuncio che io Non sarò Domani Allo GXS Perché Magari arrivi Alla fine No Ho sbagliato tutto Ho provato Comunque Sì, magari arrivo Alla fine Ma alla fine Perché Perché Sono in un ambiente Di figli di puttana Perché E' così C'è poco da fare Dei grandi figli di puttana E non ho neanche Ah, ti licenziano Se ti beccano Ma magari Ma magari Quindi non è un problema Assolutamente E quindi dovrò saltare Almeno i primi due segmenti Del GXS Nella mestizia più totale Cos'è? Cabillo Cabillo Nice Cabillo Is this Cabello Dennis Magma È cambiato molto Il mood Da Sì Appena abbiamo capito Che dovevamo fare Cosa si spara Questo Dov'è? Non lo vedo L'ho visto Ok Arriva Arriva Ok Cosa? No Non ero troppo in basso Merda Arriva Ah Ma ha preso comunque Venì Arriva Via Perché bisogna stare alti Il trucco qua E stare molto 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 Alti E infatti adesso Sono stato bassissimo Ho rischiato Dove sono? Ok Due due 500 mila danni Sto stronzo Il merda Palla pallina Palla pallina Quindi tre Ok Riesca per riare D'addio il dado Ma le carte no Porca di una vacca Ma perché le carte Sono lontane È quello Il problema Ha molto divise È molto lontane B Anche Oh Ok Va bene La pallina Occhio a stare Troppo larghe Ok C'è tutto sommato Ah no Stavo per Dicevo Tutto sommato Eh no Perché sono stato Scoglione Che mi sono messo Ho aspettato troppo Devo andare via adesso No No L'ha fatto L'ha fatto Palla pallina È che non gioco Con palla pallina Dalla prima volta Che abbiamo giocato A Kingdice È proprio La prima volta Ok Siamo Ormai A Kingdice Arriviamo Se Ora Non esagerare Non è più facile Devo spegnere Ok Due Tac Ok E ora io attivo Immediatamente la ulti E muoio Salta Attiva la ulti Salta verso Di la tua faccia Attiva la ulti Ok No però aspetta No se sto largo Se sto lontano E lui attiva Di la Ho molto più tempo Per tenerla ulti Lì pronta E per scompogliarlo Quindi forse Tipo così Perché Olè Bravissimo Bravo Stai Stacce Più possibile Stacce più possibile Ok Va di là Di solito Dimi che stai di là No 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 Più che altro Sto guardando la vita E dico no Cioè A parte che Sì È vero Cioè Gli ho fatto un ulti In faccia Che dovrebbe essere Quella più forte Io l'ho visto E giocato da altri L'ho visto da le ore Gli ha fatto un ulti E ha fatto tre quarti di danno Ma perché siamo in due Quello lì era un sesto di danno Siamo in due Non torna lo stesso Dio mio Cioè È una qualità di danni Che non esiste Bisogna fargli Vabbè Calma 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 Stiamo calmi Stiamo calmi Cazzo Porca Odio questo gioco Guarda che lo schifezzolo Sparato Gioco dell'anno Ma Odibus Ma non è vero Però Comunque odio Questo gioco Candidato a giochi dell'anno No Per me è uno dei candidati A giochi dell'anno Non ha vinto niente A quella roba Che è la fiera della merda Capet ha vinto Tipo quattro robe A Game Awards Sì A Game Awards Ho vinto quattro robe L'unica cosa sensata Che è uscita per The Game Awards Più o meno Oh le Game Awards Sono la merda Mi era piaciuta Una categoria Che ha giochi per famiglie Dove Quattro candidati Su cinque Erano Nintendo Vabbè Ma perché sono Giochi per famiglie Però Sì ma solo Cioè È una categoria Solo per loro Praticamente Sì E tre erano Mario Eh certo Anche se Mario Rabbids Porco No Mario Rabbids Ha vinto il gioco Con miglior strategico Ma lo so Ma era anche Come gioco per cosa Suppongo Oh no C'è Domino No no Domino Su quattro Ci sta Non ti pare Dar miglior strategico No È quello Quando ho visto Che c'era XCOM Nel coso Ha vinto Mario Rabbids Per quanto abbia visto E mi possa interessare E probabilmente Lo comprerò Sì ma Alla fine Cioè nel senso Mi metti XCOM E Mario Rabbids Mario Rabbids È un gioco Con le meccaniche Come XCOM Fatte peggio E con meno profondità Il fatto è peggio Perché è meno profondo Perché Perché deve essere Gioco per dire No Scusa È che ero Devo sbagliato Tasto Però comunque Intanto Ah yeah Vabbè Intanto comunque Sennò avrei avuto Avrei avuto Il 2v2use Non mi importa E no Sì Sono meccaniche Molto meno Complesse Ma ci sta Però non ci sta A fargli vincere Il gioco strategico Dell'anno Soprattutto che è uscito XCOM XCOM 2 Civilization A proposito Divinity Considerato lì Come cosa Oppure no Non è strategico È considerato come Il gioco di ruolo Perché Perché è un gioco di ruolo Strategico Tecnicamente Quindi potrebbe Visto considerato Come cosa Sì se Mario è strategico Come hanno organizzato Nel senso Non è che No era solo Ha preso una nomination Però Sì era solo candidato Per il gioco di ruolo Dell'anno Che ha vinto Persona 5 Che È È Una delle poche cose Insieme a La roba che ha vinto Cuphead Che posso dire Ci sta Io Con Persona 5 Non ho un bel rapporto A me non piace Persona 5 Sinceramente Sapendo che c'è Divinity Che c'era Divinity Sinceramente Mi gira un po' il cazzo Però Più che altro Si nota talesemente Un Come dire Un'orientalizzazione Dei premi Cioè ha vinto Ha vinto Il JRPG Perché non è un RPG Il JRPG Dove farmi durissimo Per andare avanti E basta Un gioco che abbia Del grinding duro Per me a me Prende già Un punto in meno Sì sì Il grinding duro A me prende già Un punto in meno Divinity Non esiste il grinding Perché i nemici Non rispondono Sì Quindi Tu devi prendere Quelle esperienze E quella prendi Secondo me Già un gioco Che ha grinding Come base Di sviluppo Del personaggio Non merita Wow Non merita Di vincere Olè Quindi boh Dico Sarà bel gioco Però Io l'ho visto Non è brutto È un gran bel gioco È un gran bel JRPG Non posso stare Pensare che È un gioco Del genere Ma appunto Nel senso Dato che esiste Una categoria del cazzo I Game Award Fa una categoria JRPG dell'anno E non così Anche perché ce n'è 500 Infili Infili In JRPG Ce ne sono veramente Escono 500 L'anno Non è che Comunque Non vorrei dirti Ma lo so Guarda un po' i nostri punti Lo so Lo vedo Ok Se non ci siamo Ci siamo distratti Allora Figlio di Indrocchia Scusa un attimo Aspetta un attimo Prima di Ragioniamo Abbiamo fatto Chips Poi Domino E Palla pallina Sono quelli facili Infatti Pensavo Teniamocela a mente Perché questo potrebbe essere Un buon Corridoio Per Tagliare Andiamo Vai Tanta voglia hai Non la vedo bene Comunque Non so te però No Oh mio dio no Oddio 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 Ce la faccio A due Oh mio dio Due o tre Sì In teoria è meglio tre Meglio tre Ok Uff Tre Di nuovo Tre di nuovo Scusa Riedi Ci Oddio Vale Va bene Due Anche perché se sbagli E fai tre E scimmia di merda Quindi Sappilo Oddio Ballerina di eutanasia No Oh cazzo No Ce lo stavo facendo È ballerina di eutanasia È la sine Ah ok Parti con questo No Vabbè Io lo smacco Vai tranquillo Cioè se ripeto Se non usi la smoke Frega mica Madonna il ritmo Frega mica Frega mica L'amchiappetto L'amchiappetto Fabbiamo male con la smoke bomb No 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 Qui senza smoke bomb è veramente Il male di esistere La smoke bomb è diventa quasi una cazzata No No Eh Ballerina di eutanasia Mi spiace Muori E io ho tolto la smoke bomb Io ho tolto la smoke bomb perché 5 di vite Perché ho detto Tanto ballerina di eutanasia Non lo facciamo mai E quindi siamo nel culo Dai Comunque Dai Dai Io ci credo Hai anche Forse è meglio così Perché sei da solo Quindi probabilmente dura meno Questa è la speranza Io non ti metto pressione Te lo dico Te lo dico Non c'è pressione Però questa potrebbe essere l'ultima occasione che abbiamo Per dire Cioè io Non voglio metterti ansia Però sappi che o fai così O ce la fai O sei nel culo Perfetto Nel senso Ok Ok Va bene va bene va bene Non importa Non importa Prego solo un danno Di due danni No vabbè Un danno stavolta A sto giro No Oddio Quando tre di due No 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 Buona bene così Vai 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 Sei bravo Bella idea Bella idea No Non importa Non importa Non importa Ora Ora lo prendi Se va bene così per me va bene Nel senso Aspetta Aspetta Gli dai due pattoni E andiamo avanti così Che cazzo te ne frega Vai Via uno Via due Vai di là Eh Schiva Frega Frega forte Il signore Oh dai c'è c'è l'amica C'è l'amica Vai Sprega Non ci credo Sì Marca dio Ok tutto a posto Ora vengono quelli del piano Senza pressione Quelli del piano di sotto Adesso Sopravengono sotto A suonarci Però va bene Tempo direi Tutto a 10-15 minuti Non è un problema Bene così E prendi anche un B B Prendi un record Dai davvero Oh mio dio mi sento male Tranquillo Guarda Non ho Non ho più le forze Andiamo a vedere Che cosa ci Quanto male ci fanno Possiamo chiudere l'episodio così A 20 minuti Oh mio dio Sai che forse Che io sia morto È stato non un bene Un ultra bene Ultra bene Perché c'è un affare Lì a fianco È perché il diavolo È a fianco Sì Scusa un po' Un attimo Puffa 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 Calciano la porta Puffa 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 Così Calciano la porta Invincibilità Ci provo Ok E proviamo lo smoke bomb Proviamo lo smoke bomb Da cazzo ho messo lo smoke bomb E' quello in alto a destra Ok Non lo trovavo più Uff Io pensavo non saremmo mai più usciti Da lì te lo dico Io non ci credevo Io pensavo Sono tanto felice Io pensavo Di dover finire qua la serie Perché dici Dopo 5 puntate 6 puntate Sempre lo stesso personaggio La gente Giustamente un po' Si rompe il cazzo Quindi dovremmo chiudere E farlo Boh Non lo so In qualche maniera Un live Che cazzo ne so Ero abbastanza preoccupato Ok Ma io sono felice Guarda Mi hai tolto un peso Ok Non da poco Allora Venite che è venuto Fino qui Vabbè È il cazzo di diavolo Non solo Mai Hai spaccato di botte Il mio buono Il mio lacchè buona nulla Re Da Buona nulla Un cazzo Ci ha fatto cagare Se lo considera buona nulla Nulla ho paura Esatto Ci ha fatto cagare mattoni Per 3 puntate Ah ma vedendo i miei contratti Ah no se posso No cos'è Ah vedo che avete tutti i miei contratti Come d'accordo Datemeli E unitevi al mio team No o si Allora Così facciamo la bad ending E probabilmente schiviamo il combattimento Col diavolo Sono tentato Anche io sono estremamente tentato Ma io una cosa è Se schiacciamo sì Poi non possiamo salvare Dobbiamo salvare Dobbiamo Finiamo qua Dobbiamo ricominciare la capa Non lo so Io non so se Non me la sento Non me la sento No Non esiste Non me la sento granché No Possiamo fare il contrario E' meglio Poi semmai Quando finiamo Sì va bene Andiamo insieme Braccetto Vai No No Ah minchia che brutto Porca puttana Tutti come Giacomo Non ho già Cosa vuol dire Welching Forse rivolta No Welch è tipo Cosa tipo Nausea vomitare Quindi Welching Mi veramente Ti rivolti Contro di me Come tutti gli altri Come tutti gli altri Ti insegnerò Che Perché non si Ah no Perché non si rivolta Vabbè A un patto Non ci si Viece Viece Quanto duriamo 20 secondi Oh mio dio Che brutto sei C'è ucciso Io ero cagatissimo Spaventatissimo Ok Scusa Ah era Un attacco Quello Ah Ok Tu muori Sì Tu muori Sì Sì Va bene Ok D'accordo Io non l'ho visto Dobbiamo imparare Più roba possibile Io te lo dico Io non l'ho visto Quindi non lo so Ok Dobbiamo imparare Ah ecco Spacca la tazza Dobbiamo imparare I pattern Sì direi Tipo questo È tipo questo Ma lo succhi ormai No perché È rimasto Oh no Oh porco di me Che cazzo Però Su La pretta di merda E mi ha preso Troppo presso Oddio Scusa E questo adesso Cos'è Ah Sì Ok E Seems legit E poi No di qua Bastardo Basta Basta Come se non basta Salta Eh non ho fatto Non ho fatto Ho aspettato l'ultimo momento Perché mi sembra Anche abbastanza lungo Come durata Scusami Lascia perla Oh mio dio È vero Perché io adesso Ho lo smartphone Io ho l'invulnerabilità Scusami È dritto È dritto Ah no C'è il serpentello È vero Eh però Come cazzo Mi stavo uccidendo il fantasma Lo sto a vedere Potevo sparare Ma non ho avuto i riflessi No no Ha fatto bene Oh madonna Capra Cazzo Oh mio dio Muori per favore Ma non è la prossima fase Forse questa è la prossima fase Sì La prossima fase Ah lo sapevi Ti uccide il teschio Se ci stai in mezzo Perché l'ho visto da leone La prima fase Ah ecco Non va Oh mio dio È terrificante Devo colpire gli occhi Per Cosa devo colpire Non ho idea Perché non gli faccio Ah l'occhio quando è così però Ah ok L'occhio sinistro Oh le robe che ruotano Conto le odio Mio dio No 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 Ok Manca Oh mancava niente Ok è all'inizio Guarda Guarda Io La vedo La vedi meno nera Raggiungibile In due puntate In due puntate Sì 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 Ah ti cagli anche te Non l'ho visto Se ci vediamo Da caca Fottuna Vabbè diamolo Spera Sì Oh No Devi saltare All'ultimo secondo Se lo prendi danno Comunque Pure uso lo smoke bomb Oh madonna Eh ciao Pallapallina 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 Sì Ah no Non ho ancora ben capito Eh la pallapallina Anche qua c'è pallapallina Scusa Sì Sattano Oddio Simpatico che non puoi Vedere Ok Perché partono Ok Sì partono da dietro Però benì C'è talmente tante cose Ci ha fatto bene No no allora Ah sì Uno spaventa Sbarrando gli occhi E l'altro Invece Saltarellando Come un piccio Oh cosa mi insulti Merda Sparando come un piccio Saltando come un piccio Ok Ok Oddio Ho capito Capito cosa devo prendere Devo togliermi il chaser Devo prendere più sciuto Eh sì però Io come lo vedo Io ho sparato in quella direzione Mentre me lo vedo Ah dici che è meglio Sparare in anticipo Tanto lì non puoi sparare Sì Ah Beh comunque No Palline No Pocherelli Secondo me spegni Con lo centrale Si spengono Scusa Devo mettere Ok Perché penso Che diavoletti Sono debolucci Li uccido tipo Con due colpi del Stavo quasi pensando Di Anzi Spread Eh Stavo pensando Allo spread Io Non lo so Sai Contro il diavole Lo spread Li sfascia Secondo me E Bello All'invisibilità Ma vaffanculo Dici Sì Energy Pim Io ho messo Energy Pim Proviamo Sono comunque la persona più piace del mondo in questa puntata Sì sì a posto Ah possiamo tornare Sto bene così Ok Sei felice Tu lo sai Sì sì abbiamo progresso Sì sì Progresso E questo non lo vedo infattibile Quindi nel senso Sì Imparando bene il coso Non deve essere poi così Cos'è Da che parte Ok di qui c'era un diavolo L'ho ucciso No dai Devi stare sul lato Eh ma sono corso Però non credevo bastasse Quindi il danno è Danno è sufficiente Apra di merda Eh dai È sufficiente per il demonio Il demonio ti li Gli sbricioli Praticano Cos'è Palla palline Palla palline Eh ciao È effetto No Ah però Ah merda Dovevo fare il dash Che lo faccio Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua No Dai arriva da destra Ah Arriva da destra Allora arrivano anche da sotto Ok Dovrebbe essere quasi fatto Credo Quasi cotto Cosa mi ha ucciso? Eh no Quanto era? Davvero Quanta vita in due Davvero A me sembra sia un po' più del doppio di vita Sinceramente Vacca vacca Vabbè io però non ho usato il charger Tu te lo spieghi Ok Tu sul lato Non gli fare da male Quando in questa fase qui Non gli fai male Ok Arriva di là Oh shit Oh Oh Passi tu? No Non cambia un cazzo A quanto pare non basta Eh devi solo resistere Aspettare resiste No Ah sta a ricerca Sì Ok Non è male l'idea che sia ricerca L'idea che sia ricerca Non mi dispiace Devo dire la verità Basta stare solo Se in eterno movimento Pallina Pallina No Aspettò 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 Eh sì Bravo Ciao Sono morto in Cambogia Per il vero imbalzo Oddio Devo imparare il timing della capra caprina Ehm Ok E arriva Infatti arriva un diavolo Eh ma allora Allora Io stavo sparando Eh no Un po' meno all'angolo Ti colpia Ero proprio al pelo Lì se uno sta per spawnare Che non è già spawnato Ti ammazza Perché spona E non puoi fargli abbastanza danno Ad ucciderlo in fretta Boh È un bel culo Merda Uh meno male Salgo No Ho girato due volte Per andarla a prendere Non so se è il peggio Oh sì È il peggio Se ti puoi fare il cazzo che vuole È il peggio Perché almeno è una ricerca Andate un po' dove cazzo Qua è deciso Sì però Quanto pare non è a ricerca È al cazzo che gli pare Ok Va bene Non gli togliamo Niente comunque È in due È un casino In due Diventa impossibile Perché il boss Non ha il doppio della vita Ha molto di più Scusa mia Faccio il chiusi Con il boss finale Dicevo Secondo me è molto più della gang Cioè Io prima Quando ero da solo Che tu sei morto Ci ho messo molto meno Ucciderla Tipo Non è niente Devi morire però Ok 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 Soltanto che c'è un componente random Che non è tipo questa Ad esempio No scusami No dai Ho sparato a lato io Davvero No dai Su No 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 Non puoi fare tutte e due insieme però Eh Che cazzo Oh Non ti dà neanche il tempo Non ti dà neanche il tempo di capire Per schivare E' un capo Caprino No dai però Cioè nel senso C'è un vino Per la vita Di quello che era Tra l'altro questi rimbalzano A cazzo Di cane Completo Rimbalzano Oddio No 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 Stavo già saltando Quello Non è che posso saltare Otto cose In contemporanea Dove Non sta uscendo un diavolo Sì però gente Cioè Sposatino Stare al centro Sì però Cioè Quanto tempo Per prima fase No è Mi ha sparato una fica Sì Sì però spara Perché non spari Ok No 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 E vabbè Allora Ok Sparei Guarda Ma l'abbè già Dotto E la prima fase Che è robustissima Ma scusa Perché Scusa Io l'ho colpito Tre Tre volte Quello spread Forse Io l'ho sparato due volte Due volte col charger La pinchia La prima fase è robustissima La seconda è fragilissima Ma io avrei chiuso qui Dai Facciamo proviamoci Questa è la volta buona La chiudiamo qua No Ci vuole ancora No Ci vuole ancora molta pratica Dobbiamo imparare bene Le cose No Caprina C'è il carto tutto Aspetta Scusa Perché se dobbiamo fare L'ultimo tentativo Lo dobbiamo fare per bene Che bello però Le mie emozioni Che bello Che sono Tantemente come miglior studio Miglior art dress Bello proprio C'è poco Ti fa tanto incazzare Però è tanto bello Però ti fa tanto incazzare Questo sai che forse Minchia Sono rimbalzato Sul Su quello da Da periare Sono andato a schiantarmi Contro l'altro Per lo spread Fa eh Perché non è che Non fa Cazzo Merda Ok Non è che non fa Fa Però non fa Abbastanza Quello problema Dovrebbe fare di più Si può fare Le palle le odio Le palle le odio Eh l'ho detto Che le odio Le sei Ok 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 Due Ma tanto no è inutile Non colpisco Quattro Quanto è? Cinque? No Secondo me Secondo me è il numero X Dici che è Oh no Troppo presto Va bene Guarda Guarda dove era Bastardo In teoria era anche Un po' più in là Della prima fase Era un pochino Infatti era un'emozione Della seconda fase Quella Che falle Vabbè Di chiunque sia questa puntata Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace Iscrivetevi Al mio canale E a quello di Mac Esatto Perché comunque Non metto la schermata di pattern Perché potrebbe essere la tua Chi lo sa Mettiamola veloce La metti veloce così Qual è? È outro Devi andare su outro No qua Ah ok Clicca lì Questa è questa Ciao Ciao Siamo sul canale di Mac Sennò Niente Grazie E quindi ci vediamo alla prossima Che siamo un po' più allegri Sono un po' Ciao a tutti Bye bye Ciao Salute Mac Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti